Salve amici e amiche bentornati nel mio canale nuvole di lana oggi vorrei portare alla vostra curiosità una proposta nuova di lavoro fatto a maglia ma un lavoro traforato vista la stagione che sta arrivando mi sembra anche illecito poter usare qualcosa di più leggero è molto semplice da elaborare ma anche molto particolare è bellino messo sopra una bella camicetta renderebbe fatto a gilet e questa è la mia intenzione poterlo realizzare come gilet un gilet aperto e smanicato il periodo ce lo permette quindi andiamo sul traforato questa volta in tinta unica è bellino e curioso ma facilissimo anche da realizzare io spero e auspico che questo punto e questo progetto lavorativo vi piace sia di vostro gusto e possiate realizzare le cose più belle più creative che vi dà la fantasia non dico cosa vedete voi è un punto traforato che ci permette fare un po di tutto io ho pensato a un gilet smanicato che ho intenzione di regalarmi di farmi da mettere proprio in prossimità dei tempi un po più tiepidi caldi e voi con la vostra fantasia create ciò che meglio spensate per voi o per chi ne vorreste fare dono questo il retro come si presenta è pulito e compatto ma non è irreversibile anche volendo si facendo una sciarpetta si potrebbe utilizzare non è nessuno lo nega quindi ho utilizzato questo filato di lana che si chiama dici fresia filati e filati di la fresia coccole di filati una cosa del genere forse l'ho fatto vedere anche in qualche altro tutorial al 100 per cento acrilico 100 grammi per ogni gomitolo ma molto morbido pratico bello lavabile da utilizzare ma voi logicamente palesemente chiaramente potete utilizzare tutti i filati che volete i colori che vi piacciono di più sempre che mi auspico e spero il lavoro sia di vostro gusto di vostro piacere è molto grazioso è particolare è indicato forse per questa stagione quindi andiamo sulla tutorial qua ho messo un numero pari di maglie anche considerando il vivagno e ho fatto una base inizialmente a coste uno a uno e poi un passaggio di maglia leggermente piccolo di maglia è facilissimo si svolge solo in due passaggi ora ve lo mostro è facile anche per chi volesse avvicinarsi in questo periodo al lavoro della maglia quindi per qualsiasi larghezza ampiezza lunghezza vorrete realizzare il vostro lavoro il numero pari di maglie come base potete utilizzare sia quella a coste sia quella legaccio sia quella rasata io il lavoro qua lo faccio e lo proseguo su questo campioncino per non allungarmi molto con i tempi sono sul davanti del lavoro sul davanti del lavoro si incomincia e io lavoro ad esempio il vivagno lo faccio al punto al dritto poi guardate bene faccio una doppia gettata e prendo due maglie insieme e le lavoro così al rovescio in questo modo doppia gettata e due maglie insieme al rovescio spero di essere visibile c'è qualcosa che mi disturba un attimo perché vorrei essere più libera ecco qui doppia gettata e due maglie insieme al rovescio fate conto di aver messo la vostra base e state facendo il lavoro incominciando il punto doppia gettata e due maglie al rovescio doppia gettata perché faccio un rovescio io utilizzando questa tipologia di scusate il tono di voce ma mi capita sempre di perdere questa tipologia di lavoro a maglia a ferri c'è quella continentale quella europea non lo so come definirle io devo fare la doppia gettata chi usa l'altro metodo ad esempio non ha bisogno di doppia gettata però io non lo utilizzo e uso questo quindi doppia gettata e due maglie insieme al rovescio in questo modo doppia gettata e due maglie insieme al rovescio doppia gettata e due maglie insieme al rovescio guardate che molto curioso e bellino e leggero e questo è il divagno finisce qui il mio campioncino spero che sia stata ripresa perché non vedo bene neanche la telecamera come posizionata comunque posso anche ripeterlo e farvelo vedere ora rigirando il lavoro ci troviamo sul rovescio del lavoro e lavoriamo tutti i punti che abbiamo al rovescio tutti i punti quindi ritorniamo anche a ripristinare il numero originale dei punti e delle maglie messe sul ferro lavoriamo anche la maglia che abbiamo lavorato un gettato fatto da gettata e questo è il secondo passaggio e anche l'ultimo del punto che vi ho proposto un punto traforato leggero particolare e molto grazioso da utilizzare in diverse occasioni o in diversi lavori io lo propongo, do l'idea, do lo spunto, poi sta a voi realizzare ciò che preferite meglio per voi o per chi ne vorreste fare dono ecco qui, finito il nostro lavoro, ci voleva poco, è facilissimo, è bellissimo, è creativo, è leggero, è particolare adesso vi rimostro come ho fatto il primo passaggio ed è facile, quindi non voglio creare difficoltà a nessuno ma farmi vedere di più dalla telecamera, il vivagno lo lavoro, se non lo volete lavorare non lavoratelo poi faccio una doppia gettata, ripeto perché faccio questo tipo di lavoro ai ferri non so come si chiama, continentale, europeo, diversi poi prendo due maglie insieme e le lavoro così al rovescio doppia gettata, due maglie insieme e le lavoro al rovescio questo è molto facile anche per chi vuole imparare ora come ora il lavoro della maglia doppia gettata, due maglie insieme al rovescio doppia gettata, due maglie insieme al rovescio non c'è nessuna difficoltà, nessun modo complicato di togliere e mettere come ho fatto in altri lavori questo è molto molto facile doppia gettata, di nuovo e due maglie insieme al rovescio doppia gettata, due maglie insieme al rovescio così e il punto di vivagno rigiriamo il ferro siamo sul rovescio del lavoro facilissimo anche qui c'è poco da sbagliare, c'è poco da preoccuparsi da lavorare perché sendo sul rovescio del lavoro lavoriamo tutte le maglie così come si presentano al rovescio tutte anche quella che abbiamo gettata fatto come gettata questa ad esempio tutte al rovescio ripristinando anche il numero originale delle maglie che abbiamo messo inizialmente sul ferro e dando forma tipologia al punto che vi ho proposto così bellino creazioso creativo traforato e leggero utilizzate tutti i filati che preferite i colori che vi piacciono di più se volete alternare alternati un colore con un altro colore usate la fantasia che è molto bella e molto creativa e voi ne avreste sicuramente più di me ecco qui è finito anche questo passaggio guardate come viene semplice, bellino, grazioso il nostro lavoro io spero che vi piaccia che sia bellino per darvi un'idea per creare qualcosa immaginatelo anche sotto una camicetta perché io ho intenzione di farmi un gilet smanicato ripeto, da mettere sotto una camicetta colorata che gli dà risalto ad esempio ma si possono fare tantissimi altri lavori un coprispalle uno scialle non ho idea adesso di tutto quello che si potrebbe fare un copritavolo un copricuscino guardate le idee da poter realizzare sono tante avete voi più creatività di me sicuramente nel realizzarle spero soltanto che il lavoro che vi ho proposto sia di vostro gusto e di vostro piacere tutto qui si svolge in due passaggi è facilissimo ricordatevi il numero di maglie o multiplo di due compresi i vivani per quanta larghezza ampiezza voleste usare è una base che potete fare sia a coste sia a legaccio sia a maglia rasata come ho fatto io che ho incominciato a coste e poi ho fatto anche qualche giro di maglia rasata piccolo ma l'ho fatto e si incomincia sul davanti del lavoro così come vi ho proposto e vi ho fatto vedere quindi a questo punto è facile il lavoro c'è poco da perdere tempo o da dedicare molto tempo ad altre cose che sono un po' più particolari questo invece è facile 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 io spero che vi piaccia che sia di vostro gusto particolare perché non l'ho preso da nessun tutorial l'ho inventato così al momento però è molto bellino proprio perché ho avuto l'idea di realizzarmi un gilet un gilet smanicato e aperto sul davanti grazie comunque per avermi seguito per la pazienza e l'attenzione che mi avete rivolto la compagnia per me è assai importante grazie ancora e vi aspetto al prossimo tutorial spero di farvi cosa gradita e non vorrei dimenticare di salutare tutti i miei iscritti e se qualcuno è rimasto apprezzato il mio lavoro è piaciuto e mi vuole dare gratificazione io sarei ancora più grata se si iscrivesse al mio canale basta basta soltanto quasi come un gioco perché è gratuito cliccare su iscritto e mi farebbe cosa assai gradita quindi vi ringrazio di cuore e vi aspetto al prossimo tutorial vi lascio con questo lavoro molto bellino particolare fresco traforato leggero grazioso particolare a voi con la prospettiva di realizzare di fare un buon lavoro e vi aspetto al prossimo tutorial con affetto con stipatia con stima vi ringrazio ancora ciao e siccome abbiamo lavorato ai ferri in francese io saluto di solito e il saluto in francese si dice con i ferri si dice a tricotter quindi vi saluto ancora una volta dicendovi a tricotter grazie ciao al prossimo tutorial a tricotter ciao salve